incredibile guardate qui guardate qui questo qui questo qui altro che wattà guardate qui questo qui è alex nouse ve lo sto dicendo è alex nouse preciso vale 400.000 esatto vedi quanto valgo altro che mamma mia io avrei detto che era questo qua no no perché faceva schifo un po' crepato qua sulla testa allora oggi siamo in una modalità dove si danno spadate prima di tutto che già questa cosa è bella comunque e queste persone qui credo che noi dobbiamo dargliele vediamo ma bellissimo ma bellissimo ma vedi solo così si guadagna picchiando questi allora iniziamo a stabilire una gerarchia perché piace che si mette in mezzo e inizia a premere come un deficiente non lo voglio vedere neanche proprio io mi ricordo che cosa tu hai fatto cosa hai combinato non lo dimentichiamo non lo dimentichiamo l'ultima volta mi hai fatto spendere 500.000 soldi non si rivedrà mai più questa cosa no non si rivedrà mai più perché oggi sei lì secondo me non è stata abbastanza no no è abbastanza è stata per me adesso adesso io e gli altri giochiamo tu rimani lì a guardarci ma mi non è escluso ma mi non è escluso nella sedia questa è una tortura si esatto così impari a far spendere a ritimolo fare sciopare non ti dico niente cos'è una minaccia no sto scherzando no 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 forse mi hai convinto dimmi un po' che cosa allora vedi dove c'è la freccia rossa a sinistra si si ah la freccia rossa che hai visto lì no per due di ex soldi e laghi chance mamma mia mi piace però non buttare mi piace scusami no no stai lì devo ucciderti poi eh no no non si rivedrà allora prenderò un'ora di per due esperienza si gustosello un'ora un'ora si beh non c'è da meno e poi un'ora di per due coins mi sembra anche interessante no signor piace fermo non parlo cos'è successo se tu guardi in basso a destra c'è starter pack che conviene fare quello secondo me perché ti dà per sei i soldi ma nel caso comunque guarda che si sommano eh sono sempre più ah ok ok scusa non ti dà un pettino che ti dà per sei è diverso non ti dà anche ah è vero è vero ha ragione eh ma poi questo qua è un great deal c'è scritto eh eh ve lo dicono pure c'è secondo me non è roba da perdere questo qua vado a comprare come anche è un great deal direi le storie del quartiere acquistare le storie del quartiere ma ragazzi io ho comprato il great deal qua di roblox voi comprate le storie del quartiere se vi va io lo sapete che poi come al solito mi imbarazzo anche a chiedere troppo di comprare le cose però cioè Alex chiedilo tu chiedilo tu merita merita innanzitutto merita perché guardiamo il risultato che ha avuto lo scorso libro le storie del mistero speriamo che non ne ha di meno diciamo allora sta andando benissimo questo posso dire solo questo quindi grazie a tutti quelli che l'hanno preordinato esce l'undici febbraio in tutte le librerie ma conviene che lo preordinate si può preordinare anche in alcune librerie se sono ben organizzate io intanto uso la mia mossa anche perché ci sono gli stickers no ragazzi cos'è successo? cos'è successo? oh 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 ma divento un ninja della melanna oh oh ma hai distrutti porca di quella ma così noi stiamo a filmare no 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 Lionna ma tu non sai una cosa eh c'è uno shop in cui c'è una spada eh che si chiama ice rage epica e questa cosa mi tenta a me lo sai tu questo e lo sai quanto costa eh 9994 no no va tranquillo Anna scusa è eccessivo eccessivo però ce n'è una che costa di meno si chiama blood sword e costa 250 mi sembra comunque tanto allora aspetta un attimo vediamo di fare le cose hai messo un porco allora tu non puoi giocare hai le parole insieme che schifo esatto fai schifo adesso sono ancora più arrabbiato con te no basta sto zitto e sarà meglio allora io ho una spada potenziata chiaramente che mi è stata data con il mio power up lì delle balle che in teoria dovrebbe essere al pari suppongo quanto danno c'ha eh non te lo so dire perché non la trovo sarà e vedo e non c'è mi sa sì Anna ma tu non hai visto che in fondo c'è una che costa 19.000 900 euro ma stai scherzando è un demo sproposito ma più o meno 19.000 quanti sono sono 200 euro più o meno ma che 200 euro no sì forse sì sono 200 euro no no 200 euro sono tantissimi scherzi sono eccessivi sono troppo io non so quanto danno fa la mia eh che no non si può prendere quella eh eccessivo eccessivo allora la mia spada che tra l'altro si chiama punta spuntuta fa 50 dai zitto fa 55 sembra un coso che si usa per pungolare la gente è molto buono 55 di danno eh la mia fa 20 fa conto eh le altre come facciamo a vedere quanto fanno le altre spada però non si può perché dobbiamo comprarle devi comprarle tutte mamma mia eh ma fa schifo la mia no sono stato truffato no perché perché qua già sono arrivato a fare più danno della mia oh oh il boss facciamolo facciamolo e come si fa a fare il boss eh ora ci andiamo gliela gliela diamo ma ci siamo sono le due è perché gli altri fanno schifo Anna stava dormendo no mi cazzo non ho necletto piace brutto vai è prontissimo è forte è forte ma io ho l'abilità pestalo pestalo attento attento piace è normale non è che mi sfonda vai piace attento salta quando fa quelle mo fai il doppio piace abbiamo il doppio salto fai quelle cose lì vieni a picchiare però piace io e te forever per sempre piace io e te è bellissimo vai bacciamoci mentre combattiamo no lo fanno attento ti targetta il boss fai una schifata l'ho schifato epico epico adesso continuiamo serve una musica qua però questa qua ok vai vai piace vai 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 picchio vai mi ha fortissimi piace molestiamolo vai 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 piace di più uso la mia abilità uso la mia abilità piace vai 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 di più di più lo so sembra potente insistici insistici bravo schiva vai vai piace gli abbiamo tolto quasi metà vita incitateci da là fuori voi vai 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 mi ha fatto una mossa incredibile continuo no 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 devi resistere devi combattere vai piace si sta rigenerando vai 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 sto attaccando a pochissima adesso vai 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 a metà ancora vai che ce la fate vai vai che abbiamo anche la musica epica vai piace di più vai sto attaccando felicissimo con tutta l'energia io uso la mia abilità incredibile tutta in canzio della spada attento ce la con me adesso ce la con me schivo schivo di più vai 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 che ce la stai facendo vai 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 diamogliele diamogliele vai 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 di più di più mi sta attaccando vai piace più insistici sono morto niente no piace è morto rimango solo io ma devi resistere devi resistere piace per te lo faccio devi fare il boss devi farlo per me c'ha tipo 13.000 di vita ancora eh sì è mortale adesso 10.000 10.000 di vita 10.000 meno di 10.000 di vita uso di nuovo l'abilità vai abbattalo 8.000 vai che sei bravissimo sono incredibile non ce la faccio più sto cliccando come un forzennato vai ti darà tipo pezza che ti darà un bottissimo di soldi il mio muscolo dell'indice sta essendo un po' pompato a mille vai le varano la pena vado 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 avrai l'indice più grande del mondo si l'indice è fortissimo di lion eccolo che muore eccolo che muore è morto si ho vinto cosa ti ha dato cosa ti ha dato adesso sta morendo perché c'ha la sua animazione per morire no tutto che si contorce ora vediamo sicuro qualcosa di eccellente insomma non mi aspetto niente meno qualcosa di epico sicuro cosa ti ha dato no 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 è buono è buono 20.000 soldi tantissimo buonissimo gustosi 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 adesso che c'hai 20.000 soldi ti vorrei portare la tua attenzione che puoi comprare i power ups per la spada eh 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 buono ho fatto fatica a capire cos'è che puoi comprare sì ma allora sento qualcuno che sta premendo come una deficiente lì che piace che non dovrebbe no non sono io lo sto cliccando cioè lo sto cliccando col mouse vieni qui arrivo mi ricordo di averti vietato di fare questa cosa ma dai mi sto annoiando voglio giocare no non puoi no vabbè che devo fare comunque i powers sono bellissimi avete visto cosa c'è ti avrei visto quanto costano costano tantissimo sono dispendiosi però Anna la vedo distrattina quindi Anna se da una svegliata la smette sono stra vigile l'unica cosa è che ho notato sono distratta perché ti manca un compagno di combattimento è il mio pettino vero dove sono i pettini io l'ho comprato il pettino quindi lo devi equivaggiare e dove sta qua nello zaino nello zainetto vai su my pet allora Anna e Alex avete rotto tre quarti cosa non voglio vogliamo rompere l'ultimo quarto ci diamo una svegliata no 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 mi fermo chiedo umilmente perdone questa è Anna eh è Anna che dorme è Anna che dorme ma non è vero è Anna che dorme perché mi dici che dormo perché dormi non è vero datti una svegliata se no ti rimetto un uovo e non me ne frega niente oh adesso tranquillizziamoci che devo comprare power up e ho anche messo la musica a calma così mi calmo allora guardate qui è Windstorm hai preso il primo e cosa fa? bellissimo non cambia niente perché lo devo sbagliare eh non cambia niente non cambia niente perché non lo posso usare qui ma forse c'è un'abilità particolare sai zitta oh ecco qui bellissimo l'avete visto? fortissimo hai sfondato sì l'abbiamo visto e comunque col pettino guadagno di più un botto di più tu sei fortissimo non puoi stare qui è impossibile devi stare qui sto andando ciao infatti devo andare qui vedete? come ciao? vedete qui? avete ragione scusate qui ci abbandoni un salutone piace oh Alex controlla mi piace che non faccia niente perché non può te fa qualcosa che faccio lo basso uno? sì ti arrabbi come faccio io? comunque ho altre due informazioni da darti dimmi le piace dimmi la prima è che in basso a destra compri la tua clicker che clicca al posto tuo è molto buono e costa poco ok ma stai borbottando mi fai arrabbiare no scusa adesso parlo forte ok ok e la seconda è che ci sono anche qui i codici quelli è Anna l'esperta di trovare i codici comunque dovrebbe eh ho capito ma è difficile non sempre funzionano però Anna continua a dormire perché parla in ritardo tutta lenta ti dai una sveglia dici questo eh non lo so ma lo fai sveglia basta vuoi sapere perché vuoi sapere perché eh dimmi ho fatto quello che ha detto piace ho comprato l'autoclicker non funziona come non funziona ma perché l'hai comprato perché l'hai comprato scusa eh perché così almeno mi distacco di meno no non è vero funziona voglio venire da te ecco perché l'ho comprato va bene perché ti manco ti senti la risposta vuoi fare come venire Alex no no ma io devo rimanere da solo qua sì vai sì no no sì perché questa è proprio la mia vendetta è la punizione proprio per avermi fatto sprecare quei 500.000 soldi nella volta scorsa ma dovrà finire prima o poi questa punizione prima o poi finirà prima o poi senti ringrazia che è una punizione molto magnani ma insomma ti ha solo lasciato indietro e infatti vabbè allora mi sto qui e mi sto rimando lì sì ti stai lì e piangi se piangi tanto forse ti vengo a prendere piangi in silenzio però no piangi rumoroso se non c'è gusto aspetta che tolgo pure che pianto è questo faici sentire bene un po' di più questo è Alex che ride già in mezzo ho sentito ma non è senso scusa ma che pianto è sembro che casino ma si accomigliano la risata di Alex e il pianto di piace infatti piace un po' di più di pianto scusa piace un po' di più non c'è abbastanza e basta disperati disperati sono disperato un posto bellissimo qua c'è un ci sono gli zombie ci sono gli zombie qui sono andato avanti io bellissimo dai perché ma ero appena arrivata da te tu te ne vai di nuovo adesso esco aspetta è che qui è tutto verde è un po' fastidioso anche ma è molto bello perché danno un sacco di soldi però mi rendo conto di non avere abbastanza fondi cioè i miei soldi finiscono troppo in fretta puoi comprarli e mi sa che devo comprare dei soldini ma costano un pochino troppo i soldini vediamo magari puoi comprare più pettini che ti fanno guadagnare di più invece costa di meno stai parlando al bagno tu pure no dai porca miseria prima dorme poi vado in bagno le fai tutte tutte le fai spiegami come è possibile che sei così brava non mi hanno più falli d'idea davvero ho capito perché perché sei tornato mi sono emozionata si ho capito capito che sono un vips però è anche molto bello oltretutto però è bellissimo appunto c'è una cosa che ti fa quasi svenire infatti ogni volta che ti vedo mi viene un mezzo svenimento capito ok è normale anche Alex Nauz Lion che cosa vuoi ti indovino un po' piace inizia non è vero piace non è vera questa cosa piace controllo piace vengo lì ok sono fermo vuoi venire piace guarda che vengo lì porca miseria ti picchio le dita no no ti prego non lo fare ti faccio ingirontiare sui piselli secchi no no ah quindi fanno male eh fanno male sì comunque questa modalità è molto screanzata perché ogni tanto ti appare un avviso e ti dice tipo vuoi scioppare questa cosa il per due ti danno ma famiglia no non voglio scioppare niente mamma mia cioè è proprio screanzata cioè quello chiede a te che hai già scioppato un sacco di roba io ho già otto dato e vuoi di più vuoi di più sempre di più e allora no è molto male educata non si fa comunque ha gli zombie buoni però brutto il posto perché non si capisce niente è troppo verde dici e allora devi passare oltre e la oltre costa troppo 120.000 soldi la prossima e quanto c'hai te? io al momento possiedo un 32.000 non tanto devi prendere più pettini per più moltiplicatori ci vogliono i pettini davvero pure secondo me quanti se ne possono tenere allo stesso momento? ne sa tre tre eh? beh po' però puoi comprare quello che te ne fa tenere di più è vero è vero devo comprare devo comprare ma non c'è un pettino da comprare tipo eh no infatti ho cercato è strano che non c'è il pettino c'è la spada c'è quello da 499 che è un porcellino ma robux o soldi Anna? robux puoi scioppare i soldi però? eh io con te parlo scusa ti risulta cioè a me no dov'è quello lì Anna che dicevi te da 499? devi andare nel negozietto vedi quella è la casellina azzurra e subito ti compare su deals ah è vero secondo me non conviene errore e basta eh ma 499 io lo compro secondo me questo è un affare è un grande affare allora meglio che dia delle cose buone perché altrimenti veramente è una truffa è buono da per 30 per 30 è eh vedi che è buono cioè io guadagno per 30 adesso i soldi è un sacco e in più mi sa che mi compro anche un ovettino simpatico piace non sento lacrime eh ci avete un poco eh eh un po' un po' rintronato sì le dovevo far uscire eh far uscire bene questo è decente questo è decente questo uovo elettrico vediamo un po' che ci esce un gatto comune fastidio anche a me vabbè che triste vabbè o meglio di niente di cosa vi state lamentando no meglio di niente sinceramente per 4 vabbè o per 4 guarda che averlo o non averlo fa la differenza tra 45 secondi arriva il nuovo boss io potrei comprare una spada ma costano un sacco cioè tipo questa da 499 ma 4600 no è eccessivo eccessivo no è troppo troppo questa qui da 399 robux dai questa è questa è meccettiva ma guarda il danno è buona è buona questa qua secondo me non volevo comprarla è più forte della tua a voglia molto più forte della mia quindi mi sembra di aver fatto un acquisto dov'è il mio acquisto ah ce l'ho in mano ce l'ho in mano guarda guarda che bella è bellissima oh guarda fatevo veloce poi no la velocità è la stessa scusa ma ci sarà un modo per fare tipo un pestaggio io contro di voi eh ci ho pensato ma non c'è un arena pvp ci deve essere da qualche parte ma non l'abbiamo ancora vista probabilmente secondo me ci deve essere mi sembra impossibile facciamolo venite 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 andiamo ok io posso farlo si beh grazie ma puoi fare qualcosa sei contento si ma dove è il boss solo per ora sono prontissima musica epica vai andiamo all'attacco vai amici è molto più forte questo qua di quello di prima no ma me stiamo facendo eh ma noi adesso siamo quattro però vai 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 allora dovete cercare di mettervi a fianco dietro di lui perché quello picchia stiamo facendo e usate le abilità se ne avete usate i powers avete dei powers no le abbiamo i powers bene siete delle seghe non ne avevo dubbi vai è caduto è caduto è caduto attenzione schivate ora che fa qualcosa ma si è rotto ehm sono caduta nella lava sto stupida ecco è caduto è caduto no non è cattino non è possibile vai approfittiamone che è muso interno attenzione la puzza la puzza no comunque è veramente difficile la puzza è fortissima eh a voglia siamo morti ma quando finisce ci sono di nuovo ci sono di nuovo incredibile stavi per cadere di nuovo nella lava non salterò mai più due volte ecco dai approfittiamo adesso è il momento ragazzi avete visto cosa ha fatto no ma è rottissima ha rotto il pavimento ma di nuovo la puzza no vabbè vabbè sono caduto nella lava no non sono caduto nella lava puoi ritornare puoi ritornare no ma è fortissimo è difficilissimo vincere con questo boss è veramente io muoio tra pochissime ci abbiamo più 4 minuti lion eh staffa di nuovo le magie staffa le magie dai approfittiamo approfittiamo meniamo vai vai tutti a passo guarda guarda come infatti no no ma è fortissimo oh ci deve fermare vai menate menate vai 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 cliccate più veloce che non avete vita proprio ma sono tanto testate e voi dovete spostarvi da dove fa la cosa a zozza avete capito così e me lo so e niente no 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 insistiamo 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 di più di più no ma non vinceremo mai è troppo forte no ma è immortale ma è tu via cioè è troppo fortissimo e io ho anche la spada quella lì comprata con i broblox che pensavo avesse e non voglio comprare non è il momento sto combattendo devi resistere devi resistere ci sto provando se la porta ma sto tornando anche io sono morto mi sa muoio ora eh sono morto dai ce la facciamo però ce la facciamo no è troppo difficile no no allora allora piace quando raccattavi le gemme facevi così scusa no all'inizio si però poi è diventata la passione ma dov'è che si rientra Anna però devi premere quella freccettina che sta vicino all'allarme del timer e sei nato è nato ah si si grazie ok vai certo che Anna spiega le cose facciamolo è un po' schifo rimetto la musica epica ma ci facciamo meglio ok allora però dillo che vuoi romperci le scatole hai metà vita ancora ma è troppo forte dai questo è epico il mubo che boss sentite ma tu pensa quanti soldi darà è quello è che mi tenta capito è una metà vita dai forza diamogliele in modo che lui si ricordi per sempre questa nostra sfida vai Anna non ti sei Anna sveglia mannaggia a te Anna porca miseria sveglia aiuto forza sveglia sveglia una contro il boss allora senti tra te che urli lui che pista non si sta capendo niente con tutto il suo picchialo ti dico picchialo aiuto vai ancora insistiamo di più mamma mia quanto ha rompito mi ha sfasciato ragazzi però sto boss è veramente già dai ma 10.000 ce la facciamo è 100.000 100.000 Vabbè rimaniamo fermi Tanto poi possiamo ritornare Quando finisce la vita Ho capito ma c'è il timer Secondo me gli sto facendo la maggior parte del danno Io e voi quasi niente Vabbè insistiamo Nel frattempo possiamo raccontarci una favola Tipo parlare un po' al tu per tu Anche con i ragazzi Oggi è stata una giornata Interessante Attività, situazioni Anche tu Anche io Piace il racconto Le gemme Quello per forza Non uccidetelo Hai dato qualche bacetto alle storie del quartiere Non ancora Dopo vado Adesso devo uccidere il boss E anche normale Piano piano è molto energico Adesso lo uccidiamo Tanto lui si sta facendo una penichella Sì sì no ora muore Sì ma ormai dai mancano 20.000 20.000 è poco Adesso Sì lo facciamo No non vi muovete Uccidete la pasta Sì infatti continuate Continuate Che finisce E sono morta Bene l'ultima idea Ma va malissimo Aspetta che ha poca vita Sta per morire Mori nella puzza No È morto È morto Non mi hanno preso i soldi Non mi ha dato niente No perché non li dà adesso Li dà tanto un attimo Aspetta Ok benissimo Sta finendo di morire Ora fa tutto il suo effetto Meglio che ci dia la roba Perché altrimenti piango Te li dà Te li dà Vedi Aspetta 7500 A me 17500 A me 2.000 Vabbè piace povero A me 200.000 Cosa 200.000 Porca miseria Porcelloso eh Ma vabbè è assurdo Posso proprio comprare Magari un Uno sword spin Poi un boom sword Che sono poteri E anche uno sword slam Che secondo me Sword sword Eh Sword 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 E poi equipaggiare Il mio nuovo potere Dello sword boom sword Facci vedere Ecco qui Eh sì Ok Vabbè non è che era Molto bello Oh Ma è bellissimo Invece Oh guarda Fa da qua Li fai esplodere È vero Esplodono Oh boom boom Bellissimo Bellissimo Molto bello questo potere Mi piace Mi sembra un ottimo affare Che ho fatto Beh Sapete che vi dico Io secondo me direi Che ci possiamo pure fermare Però questa modalità La vorrei rifare Quindi fateci sapere È vero Se vi va Potremmo rifarla Sarebbe una bella cosa Ma farebbe piacere Sì sì Quindi per questa volta Ci fermiamo qui Da Lion e la gang Della spada Della katana suprema Out